Buongiorno a tutti, io mi inizio l'incontro, intanto mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Adriano Bertolini, stavo leggendo il mio nome per non sbagliarmi, sono consigliere del CER della Biblia Romagna e faccio parte, come rappresentante regionale, del Biobis dell'Osservatorio Biblioteca per lo Sviluppo Sostenibile. Intanto presento il relatore, come si svolgerà la giornata. Ci saranno tre interventi, quello più corposo è proprio quello dei due colleghi, che sono la mia sinistra, Cristina Baldi e Paola Iannucci del Sistema Bibliotecario dell'Università di Ferrara, che sono, diciamo, l'anima e il cuore di questo progetto, Storie di dei miei palazzi, stato di studio per discutere l'inclusione, diritto alla cultura e partecipazione attiva nelle biblioteche accademiche. Dopodiché interverrà Milena Tancredi, che è componente del CEN, del Comitato Esecutivo Nazionale di AIB e Presidente della giuria del Premio Maria Abbenanti 2021, che ha a che vedere con il progetto delle colleghe di Ferrara, essendo state insegnate di un riconoscimento proprio in quelle occasioni. Il terzo intervento è di Marcella Runioni, che fa parte della Commissione AIB, delle Biblioteche dell'Università della Ricerca e del Sistema Bibliotecario dell'Università di Genova. Il titolo dell'intervento è terza missione Biblioteche accademiche e bibliotecari per la comunità. Quindi parerò io dirò due parole in conclusione rispetto a questo discorso dell'Agenda 2030 e la rilettura di questo progetto, ma inizialmente, un po' per rompere il ghiaccio e un po' perché non voglio rubare dopo la conclusione di qualcosa che penso sarà abbastanza denso, dire proprio poche parole che mi sono scritte per introdurre l'incontro. E lo spunto per questa nota introduttiva, che apre questa sessione di lavoro, l'ho avuta leggendo e rileggendo la sintesi del progetto delle colleghe dell'Università di Ferrara. Ci sono alcune parole della collega Cristina Baldi, che adesso vi leggo, durante una breve pausa lavorativa, in una calda giornata del giugno 2014, ho alzato lo sguardo verso l'alto con l'illusione di trovare conforto nelle figure che campeggiano sul sortito della sala superiore, della biblioteca di giurisprudenza. La curiosità e l'imbarazzo di non conoscere nulla sulla fresca, sui tanti riguardi di quadri di pinta, mi hanno spinto a cercare una soluzione. Curiosità e imbarazzo. Queste sono le parole che mi hanno colpito. Perché? Sono stato un flash, un'illuminazione, mi ha chiarito il senso del lavoro e soprattutto il senso di essere qui oggi a parlarvi. Se dico oggi, dico oggi, non 15 giorni fa, 20, non il 23 di febbraio, il 18, oggi, 11 marzo 2022. Due anni dopo l'inizio dello stato di emergenza, 15 giorni dopo l'inizio di questo primo conflitto europeo-mondiale post-45. Non sto dicendo che la pace ha regnato sovrame nel mondo, in Europa negli ultimi 75 anni, pensiamo a crisi balcanica, bombardamenti su Sarajevo, le Torri Gemelle, l'Afghanistan, Praga, il Vietnam, Cil di Saladro Yende, mi fermo, sono solo alcuni esempi, ma la dimensione di guerra e di invasione, dichiaratamente contro gli inermi più deboli e la minaccia nucleare, neanche troppo velatamente lanciata, segnano un cambio di passo rispetto al mondo di prima e segnano credo un necessario adeguamento anche del nostro sguardo sul mondo e quando dico nostro intendo di noi come professionisti della ricerca di informazioni, di conservazione, di trasmissione dei sapere, della conoscenza, della memoria in tutte le sue articolazioni e definazioni. Ma dico anche noi sia come bibliotecari ma anche come cittadini appartenenti a una comunità professionale e scientifica ma anche civile, umana, sentimentale e fraterna. Io uso questi due aggettivi non a caso per due motivi, perché credo che il valore della relazione sia centrale e imprescindibile in qualsiasi atto ne facciamo. Nel lavoro delle colleghe questo è declinato in maniera articolatissima. Secondo punto, per rendere omaggio a un grande studioso che festeggerà fra poco 101 anni Edgar Morin, che su questo laicissimo e spiritualissimo concetto di fraternità dedicato a riflessioni e pensieri di rara profondità e acutezza proprio in questi ultimi anni. Io sto lanciando qualche sasso nello stagno, spero che le onde che si formano, onde, le increspature, siano generatrici di altri pensieri, domande e azioni. Allora torniamo a Monte. Curiosità è il motore della ricerca, di qualsiasi ricerca, del progresso, della conoscenza. Curiosità ma anche consapevolezza, una consapevolezza di non sapere, da cui nasce sia la volontà di esplorare e conoscere, ma anche, uso ancora le parole di Cristina, l'imbarazzo di non conoscere. Franco Lucentini, qualche anno fa, un po' di anni fa, in una lunga conversazione televisiva, ha dichiarato che da molti anni non leggeva più quotidiani o stampa di informazione. Perché? Perché in una bella giornata estiva, mentre era in vacanza col suo amico e partner, Carlo Fruttero, così raccontava lui almeno, mentre stava sfogliando un rotocalco, si rese conto con imbarazzo di non avere mai detto guerra e pace. Stava perdendo tempo e decise che non avrebbe più sprecato i minuti di lettura e il tempo e iniziò, seduta stante, a leggere il capolavoro di Tostoi, in russo tra l'altro. Al di là dell'evidente paradosso, la forza simbolica di questo aneddoto emerge. Arriva un momento in cui ci accorgiamo che la routine non ci basta più. E il fatto che loro dal 2014 per quattro anni abbiano lavorato su questa cosa, credo che lo dica. Non solo, ci porta fuori strada la routine, ci accompagna sulla via dell'ignoranza e dell'ignavia intellettuale morale. Questo permette del passaggio illuminante, la nostra presa di coscienza di una piccola inadeguatezza di fronte a tanta bellezza, generata il pensiero di trasformarla in una leva per rendere noi stessi, ma anche e soprattutto gli altri che ci stanno intorno, curiosi e colpi, attraverso gli strumenti del quotidiano lavoro nostro, dell'agire quotidiano. Questo è il piccolo miracolo che ha permesso la nascita di questo progetto, almeno così lo leggo io. Rendere curioso il pubblico, i nostri pubblici, senza però urtarne la suscettibilità, la mascherina mi dà un po' fastidio, scusatemi, e il pudore senza generare imbarazzo in questo caso, ma anzi aprendo squarci sull'opaca coltre dell'ignoranza, del visibile agli occhi, ma dell'invisibile alla mente, del visto, ma non percepito. Carlo Rovelli, in un libretto per dimensione, non per qualità, pubblicato nell'agosto del 2020, Elidoland, parlando dei quanti, introduce il concetto di osservabili, oggetti per lo più invisibile occhio nudo, ma non sempre, che se non li guardi non ci sono, ma appena poni l'occhio su di loro, compaiono. Cercandoli si manifestano, si lasciano osservare. Ecco, questo in poche parole il lavoro fatto dalle colleghe dell'Università di Ferrara, il cuore e l'anima di storia di libri e palazzi, rendere osservabili agli occhi e le menti di un pubblico ampio, multiforme, gran parte dello straordinario e variegato patrimonio contenuto nelle loro corsi, patrimonio, eredità, l'ascito, memoria, costituito da questa diade inedita ma altamente suggestiva e simbolicamente pregnante. Libri e palazzi. Vado a concludere. Il tempo, racchiuso ma non congelato, vorrei dire dinamicamente contenuto nello spazio fisico della pagina, è lo spazio, edifici, loro volumi archipetticamente pensati e progettati, luce, ombra, prospettive vedere false, natura e cultura fose insieme, fermato nel tempo. Lo so, il tempo non si ferma, ma lo spazio di quel determinato tempo storico, tempo dell'uomo ma anche tempo della natura, si può sempre dinamicamente fissare su un'ideale linea immaginaria che tende a infinito, come la storia dell'architettura ci insegna, con un plus, le immagini che accompagnano il visitatore, a freschi, tele, fotografie, lo che registra fotograficamente come compagno di viaggio, in questa immersione totale nella storia di una città, del suo presente, attraverso il suo passato, il tutto preceduto da un sostantivo, storie, che sta alla sorgente, se ne nasce quello sviluppo della civiltà occidentale, ne culla, memoria, racconta. Storia come origine del narrare, bisogno di documentare, ma anche piacere dell'uomo di raccontare e di ascoltare, nel suo farsi adulto, o perlomeno, col vento che soffia in questo scorcio di millennio, nel tentare di farsi adulto, senza perdere il bambino che sta in lui e che gioca senza intenzione di far male. Con questo io concludo, lascerei la parola a Cristina e a Paola, non ci sarà soluzione di continuità nella loro presentazione, quindi non starò a interrompere quando loro si alterneranno nella presentazione. Grazie. Grazie Adriano per questa introduzione, che veramente mi ha emozionata. Buongiorno, grazie Adriano, buongiorno. Proverò a spiegare brevemente il progetto Storia di Libri e Palazzi, itinerari fra le biblioteche di Unifè. Premetto che è un progetto molto corposo, quindi non ho il tempo per soffermarmi su tutti gli aspetti, ci sarà modo magari di approfondire durante la discussione e comunque le slide, in caso interessi, non saranno rese pubbliche, insomma a disposizione del pubblico. Questa mappa l'abbiamo pensata per dare un'idea della complessità del progetto, un progetto che appunto è stato scritto nel 2014, solo nel 2017 è iniziata la vera e propria progettazione, grazie al coinvolgimento di molti partner sia territoriali che extraterritoriali. varie le modalità operative anche per poter raggiungere una diversità di pubblici, pubblico adulto, scuola famiglie, pubblico con disabilità e l'intento di creare una partecipazione attiva della città alla conoscenza del patrimonio culturale dell'Ateneo Ferrarese. Le risorse sono molteplici, in primisi i bibliotecari che accanto all'attività di didattica ricerca assumono oggi ormai un po' un nuovo ruolo verso i pubblici, creando quindi delle opportunità di contatto, di partecipazione e di crescita culturale. Le sedi del nostro itinerario, come potete vedere, abbiamo la fortuna che le nostre biblioteche siano all'interno di palazzi storici rinascimentali, anche appunto la sede della biblioteca chimico-biologica di Santa Maria delle Grazie all'interno di un bellissimo ex monastero e altra particolarità è l'aver riadattato un ex duchirificio agricolo, oggi sede del polo scientifico-tecnologico e della sua biblioteca. Quali le risorse? Sicuramente spiccano le collezioni librarie storiche che comprendono documenti dagli inizi della stampa al XX secolo e spaziano per vari ambiti disciplinari. Di interesse il fondo archivistico dell'ingegnere architetto Carlo Savonuzzi che dispone di una tipicità di materiali, dai fascicoli ai volumi a stampa, fotografia e disegni dagli anni XX al XX del secolo scorso. Anche le collezioni del sistema museale di Ateneo sono di grande interesse, si tratta di oggetti storici, didattici appartenuti a docenti che utilizzavano appunto per l'attività di ricerca e di studio e anche qui spaziano fra varie collezioni di vari ambiti. La comunità accademica bisogna appunto evidenziare che sia attore sia fruitore, i docenti hanno collaborato per la revisione finale dei contenuti sulla storia dei palazzi, degli affreschi e delle collezioni storiche, hanno curato anche la redazione di un'introduzione al racconto guida di Luigi Dalcin, racconto una narrazione fantastica per avvicinare il pubblico scuola famiglie e anche la prefazione del progetto per l'utenza adulti, mettendo in evidenza i diversi codici registri utilizzati per il coinvolgimento dei pubblici. Riguardo al coinvolgimento della comunità territoriale, mi soffermo sull'azienda Trieco 2.0 SRL di Ferrara perché ha permesso di realizzare un'app, inizialmente sperimentale, poi ha avuto un'evoluzione nell'app Mix Air Experience che permette l'accesso all'itinerario virtuale, cioè permette anche da casa di poter visualizzare contenuti integrativi, si tratta di immagini, di video, audio, per poter usufruire dell'itinerario anche se non possibile recarsi in presenza. Spisani Designer ha permesso di realizzare un piedistallo personalizzato grazie all'utilizzo di un'immagine tratta dai nostri fondi librari storici e quindi di trasformare quello che è un strumento, un semplice supporto, anche qui in veicolo di informazione. Come potete forse aver percepito è un progetto di rete che coinvolge molte collaborazioni interne, alcune le ho già esplicitate, e anche extraterritoriali esterne. cuore del progetto è il coinvolgimento della classe terza F del liceo scientifico Roiti perché grazie a un'attività di alternanza scuola-lavoro la classe ha collaborato, è stata divisa in sei gruppi, ciascun gruppo è stato coordinato da un referente bibliotecario, hanno lavorato la redazione delle schede sulla storia dei palazzi e di un locale con particolarità architettoniche e hanno imparato l'utilizzo degli strumenti bibliografici, la ricerca delle fonti e la selezione di queste. Per quanto riguarda le modalità operative, appunto la partecipazione della classe terza F, come ho anticipato prima, ma un apporto importante l'hanno data anche i cittadini privati, mettendo, condividendo archivi di cartoline storiche, immagini storiche, nonché una documentazione importante che è stato, diciamo, un primo base di partenza per approfondire determinati argomenti. Anche l'azienda Plano Plante di Ferrara, attraverso una donazione liberale, attraverso Erbono, sa potuto coprire le spese della stampa del racconto Vida per ragazzi. Le strategie adottate sono molteplici, alcune sono trasversali ai pubblici, sia pubblico adulti, scuola famiglia. Dedicato al pubblico adulti, sicuramente il totem, che è presente all'ingrasso dei palazzi, all'ingrasso delle biblioteche e in altri locali, sui pannelli sono pubblicati i testi sintetici della storia del palazzo, della storia della biblioteca, oppure la storia del locale e delle collezioni storiche, sia in italiano, sia in lingua italiana che in lingua inglese. L'app Mix permette di interagire con il pannello, attivando una realtà aumentata e accedere quindi a contenuti integrativi. A distanza invece è possibile consultare il sito web, la mappa tourer.it del segretariato regionale di Emilia Romagna, che permette il collegamento anche con la bibliografia delle schede attraverso il bibliofè, i video, sia promozionali che i video nella lingua italiana dei segni e le book ad accesso aperto. Per il pubblico invece scuola famiglie, ritorno a segnalare il racconto guida per ragazzi, che di fatto trova un riferimento anche sui pannelli, perché su questi sono stati pubblicati dei brevi passi della guida, in modo da permettere anche a questa tipologia di pubblico di poter seguire il percorso in presenza. È un progetto sostenibile perché appunto da casa è possibile in autonomia accedere ai contenuti attraverso l'Arc Mixer Experience, ma in presenza è possibile recarsi nelle sedi durante le giornate di apertura e poter leggere le informazioni pubblicate sui token. Siamo agevolati perché comunque Ferrara, città patrimonio dell'UNESCO, è una città di piccole dimensioni, ha vocazione turistica, quindi è facile, le sedi sono facilmente raggiungibili a piedi in bicicletta. La comunicazione sui porti didattici e gli strumenti diversificati in base ai pubblici hanno permesso quindi di poter coinvolgere varie tipologie di pubblico, rafforzate poi da un'identità visiva molto forte del progetto. Abbiamo voluto usare un'immagine che si chiama la cultura ferrarese, è appunto l'immagine della pianta della zucca, una rielaborazione exilografica correlata pubblicata nell'esemplare del 1542 del volume di storia stirpio in commentare in signes di Leonhard Fuchs. L'intento sembra evidente quindi, sicuramente è quello della, verso i cittadini turisti, la visibilità, la conoscenza, la frizione delle biblioteche dell'Ateneo, ma non solo, anche sensibilizzare la comunità accademica rispetto ai luoghi in cui lavorano e importante è coinvolgere le nuove generazioni affinché entrino precocemente in contatto con l'università, ne conoscano la storia, la storia delle biblioteche e soprattutto le collezioni speciali. Il tassello importante del progetto che ha permesso il coinvolgimento dei pubblici con disabilità è stato realizzato grazie alla collaborazione con il coordinamento delle politiche delle pari opportunità e disabilità, al SEA, ora Uffici Servizi Learning e Multimediali, e all'associazione Aidos di Ferrara, l'associazione per l'inclusione di udenti, scusate solo. Ha permesso quindi di realizzare 32 video nella lingua italiana dei segni, sono corredati da immagini, da sottotitoli, da voce narrate e da un interprete lisse che traduce appunto le spiegazioni. Oltre alla possibilità attraverso l'app Mix Re-Experience di attivare il sensore NFC che sono collocati sui pannelli e poter ascoltare l'audio guida. Attualmente è in corso l'analisi del progetto secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030, grazie alla collaborazione con l'AIB Emilia Romagna, l'Osservatorio Biblioteca e Sviluppo Sostenibile, abbiamo individuato e stiamo analizzando quattro goals che ci sembrano pertinenti, cioè l'istruzione di qualità, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le disuguaglianze e città e comunità sostenibili. Lascerò la parola alla collega Paola Pionucci. Bene, grazie Cristina. Io dirò solo alcune cose su queste due parole chiave che avete visto nella slide iniziale, quella del grafico e quindi terza missione e impatto. Sulla terza missione vorrei mettere in evidenza che questo progetto non è isolato ma è inserito nelle attività di tutela e valorizzazione delle nostre collezioni storiche che dal 2008 abbiamo iniziato a fare all'Università di Ferrara, naturalmente passando per tutti i vari passaggi che tutti gli Atenei fanno, quindi la mappatura dei fondi, il riordino, l'accorpamento dove era necessario, la catalogazione, il restauro, diciamo a piccole dosi ma abbastanza continuo negli ultimi anni e poi tutte le attività di video, di realizzazione di video che abbiamo fatto. L'inizio della digitalizzazione, alcuni materiali sono già digitalizzati ma non abbiamo ancora, diciamo così, un repository e una digital library ma ci si sta lavorando, quindi speriamo che sia breve anche questo disponibile e poi tutte le altre varie attività che abbiamo fatto per appunto rendere visibili e accessibili queste collezioni. Vorrei anche evidenziare che questo progetto è uno dei due casi studio che la Commissione di Ateneo ha selezionato per la VQR 2015-2019 che come sappiamo è in corso e dovrebbe avere a breve un esito, naturalmente nella categoria della terza missione Public Engagement. questa attività, diciamo, di terza missione, di Public Engagement fa parte del, diciamo, dentro il piano strategico dell'Ateneo che ha messo nelle sue, diciamo così, linee progettuali proprio la tutela e valorizzazione del patrimonio documentario e storico e di pregio del nostro sistema bibliotecario. Mi sembra importante aggiungere anche che questo progetto è stato realizzato e la giornata inaugurale con le visite alle sedi che sono state fatte dai bibliotecari in una domenica di ottobre del 2018 e dagli studenti del liceo Roiti che hanno lavorato con noi era l'anno europeo del patrimonio culturale e quella giornata è stata accreditata fra gli eventi accreditati dal MIBAT di quel periodo, con la finalità che tutti sappiamo di incoraggiare veramente i diversi pubblici a scoprire il patrimonio culturale dell'Europa per rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Quindi torniamo su questo concetto di avvicinarsi e di rafforzare un senso di comunità. Aggiungo solo che per quello che riguarda il ruolo delle biblioteche riteniamo che sia un ruolo cruciale per mettere in atto azioni che facilitino davvero il diritto di accesso da parte di tutti al patrimonio culturale, in quel senso di cultural heritage che la Convenzione di Faro ha un po' rivisto, ampliato e che deve essere da noi tenuta sempre più presente. Anche in quel senso di eredità agli eredi, come diceva Anna Bernabè ieri in sessione plenaria, cioè di veramente l'eredità, la nostra eredità che abbiamo, di trasmetterla agli eredi, ai nostri eredi, alle nostre future generazioni. Quindi sappiamo bene che Ferrara ha una storia, Ferrara e l'Università di Ferrara hanno una storia molto antica. L'Università di Ferrara è una delle più antiche d'Italia, è stata fondata nel 1391 e anche per questo motivo abbiamo la fortuna di avere le nostre sedi in questi palazzi straordinari che fanno veramente parte del tessuto urbano della città. Sull'impatto, allora, l'analisi è in corso. Anche qui abbiamo iniziato a riflettere sull'impatto di questo progetto per cercare di capire come valutarlo, come analizzarlo, capire se, come dice la norma ISO, cioè se c'è una differenza, un cambiamento sugli individui o sui gruppi che risultino dal contatto con il servizio delle biblioteche, in particolare questo tipo di lavoro che è stato fatto. Devo dire che di recente il portale dell'Ateneo, che ha già una sezione intitolata il passato e il futuro, proprio perché ha un passato molto antico, ecco, molto grande, ha inserito, diciamo, un link in nostri palazzi storici che punta alla pagina del progetto dove si trovano le pubblicazioni e l'e-book che contiene tutta la documentazione realizzata, sia di testi che di immagini, raccolta e scritta durante questo progetto. E questo mi è sembrato, ci è sembrato un segnale importante, ecco, di un inizio perlomeno di consapevolezza che il nostro patrimonio, le nostre sedi sono importanti e che devono essere, diciamo così, rese un po' più visibili, comunicate un po' di più anche, non solo agli docenti, al personale, come si diceva, no, che poco ne sanno, anche noi poco e niente ne sapevamo, questo senso di ignoranza che è stato evidenziato prima è verissimo, ma naturalmente gli studenti e tutti i futuri studenti dell'università. Il progetto è stato anche presentato come esempio di buone pratiche dalla nostra collega dell'Università di Barcellona, Esther Asreda Jimenez, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, come esempio di buone pratiche in una giornata in cui lì si discuteva di terza missione. Il premio avvenante del 2021 è stato per noi una grande, veramente una grande gioia. E vorrei leggere, scusate me lo sono appuntato qua, vorrei leggere una frase di Maria Benante che mi ha veramente colpito, che ha, diciamo, detto, ma poi scritto, perché io non c'ero in quell'occasione, alla presentazione del workshop La bellezza abita in biblioteca a Bari nel 2018 e lei ha detto la bellezza che può e deve diventare conoscenza, quindi deve essere diffusa e condivisa e diciamo che è quello che ci stiamo cercando di fare, di bellezza nelle nostre sedi, nelle nostre biblioteche, nelle nostre collezioni, ce n'è tanta e quindi vogliamo in tutti i modi che venga conosciuta e condivisa. Per quello che riguarda, diciamo, la vita, l'impatto più sociale, la vita sociale, la promozione dell'identità e della cultura locale, posso dire che negli ultimi anni le nostre sedi sono state incluse in alcuni eventi cittadini che sono diventati piuttosto importanti a Ferrara, non solo per i cittadini che partecipano sempre in gran numero a questi eventi, ma anche tantissimi turisti, persone che vengono da altre città. Gli eventi sono il Terno Verde, che è un festival nato nel 2016 e si è steso poi negli ultimi anni anche ad altre città, a Mantova e a Parma anche di recente, che apre, diciamo, al pubblico in un weekend dell'anno, giardini privati, giardini privati di case ferraresi, quindi, oppure anche di alcuni palazzi, diciamo, non privati, come le nostre sedi, che però sono poco o per nulla, se sono privati, per nulla conosciuti ed è, diciamo, una cosa molto bella, molto sentita e che veramente fa sentire propria la città. L'altro evento è Monumenti Aperti, che forse qualcuno di voi conosce, è un festival, questo è nato in Sardegna, in realtà, molti anni fa e che da alcuni anni è stato portato a Ferrara da Luigi Dalcin, che è l'autore per ragazzi, che ha collaborato con noi e ha scritto questo bellissimo racconto, racconto che potete trovare, scaricare in pdf dal nostro portale, dal portale del progetto. questo evento diciamo che attraverso un lavoro con le scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi fanno gli insegnanti con Luigi Dalcin o con altri, c'è Ferrara Off, c'è il teatro, ci sono varie associazioni che collaborano, diciamo, studiano quel palazzo, quella sede e raccontano una storia e in alcuni in un weekend dell'anno fanno da guida a quel luogo ai cittadini e a chi passa di lì gratuitamente naturalmente ed è un evento molto bello anche questo della città e quindi negli ultimi anni alcune sedi sono state incluse in questi eventi eventi. Io mi fermo qui e qui ho scritto alcune delle domande su cui vorremmo diciamo discutere con tutti voi alla fine delle presentazioni e quindi le riprenderemo in un secondo momento. Grazie. Grazie Paola grazie Cristina adesso do la parola a Milena di Veneto Ancredi il servo componente della Lucia dell'Ade Presidente in questo caso con la investe di Presidente della giuria del premio Maria Benante Prego Maria Benante è quello che oggi sicuramente intendiamo parlare proprio inclusione strategia comunicativa per diversi pubblici il premio è ben dito un anno dell'Associazione Italiana Biblioteche già detto fortemente voluto dalla nostra Presidente Rosa Maiello che qui in sala vi saluta da CEM che oggi è anche rappresentato Giovanni Bergamini che come sempre ci aiuta in queste dirette che cosa abbiamo voluto tutto il CEM lo ha fortemente voluto che cosa abbiamo voluto ricordare con questo premio la dedizione la professionalità di Maria premiando cosa progetti che sono appunto in corso di realizzazione durante l'anno solare o immediatamente precedenti all'anno in cui si bandisce il premio che devono avere la finalità di promuovere l'inclusione l'inclusione nelle sue diverse definizioni Maria io ne parlo ancora presente Maria è una mia cara amica è nata è inclusione Maria è al reference della teca del mediterraneo dove ha lavorato per gli anni era il bibliotecario alla quale si rivolgivano tutti perché sapevano di essere accolti tutti da piccoli ad adulti e ancora adesso quando vanno presso la biblioteca chi non sa resta basito da questa sua assenza lei è nata a umbriatico in calabria e ci ha salutati nel 2019 il 28 febbraio e ha lavorato appunto presso la bioteca multimediale del consiglio regionale della Puglia del teca del mediterraneo e si è occupata di tutto di catalogazioni di raccolte di organizzazione ma anche addirittura di cose che non riguardavano nello specifico la mission di biblioteca del mediterraneo come raccolte tra ragazzi ha organizzato un workshop importantissimo che gli è dato uno dei workshop più importanti del sud ha fatto parte dell'associazione italiana biblioteca investendo vari ruoli praticamente c'è sempre stata dal 2003 al 2011 nel comitato esecutivo regionale dell'AIB Puglia e poi dal 2011 al 2017 nel comitato esecutivo nazionale dell'AIB ha avuto varie deleghe importanti al lavoro alla professione dal 2004 al 2017 è stata vicepresidente nazionale coordinatrice dell'osservatorio lavoro e professione dal 2017 fino a quando ci ha salutato è stata presidente dell'AIB Puglia cosa devono avere le caratteristiche dei progetti cosa devono essere i progetti del premio Maria Biannante devono fare riferimento ad attività e servizi innovativi come il vostro svolti nell'ambito di biblioteche di qualunque natura e tipologia finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale e la dimensione inclusiva cioè quello che avete raccontato che era titoli raccontare con il vostro progetto vogliamo premiare progetti che abbiano come mission proprio prevalente l'inclusione nelle sue diverse declinazioni in questo modo crediamo di onorare quelle che erano le qualità etiche professionali di una collega amica o meglio di una persona che ha fatto dell'inclusione uno degli impegni costanti della sua azione al tempo stesso cosa vogliamo vogliamo rinnovare la certezza e di questo ne abbiamo la consapevolezza che alta e maria Antoniette ambenante nelle diverse biblioteche del mondo si facciano animatrici e operatrici di quei valori di ascolto di accoglienza di solidarietà e di servizio che sono il collante della società umana e tra le ragioni dell'esistenza stessa delle biblioteche di pubblica vettura e non solo come in questo caso appunto le biblioteche universitarie ma è come in questo momento il collante umano dopo questo lungo periodo pandemico è diventato il vero valore delle biblioteche e della mission delle biblioteche di qualsiasi natura a se sia possono concorrere a premio bibliotecari singoli o gruppi senza limiti d'età di provenienza appunto biblioteche la giuria un mio saluto caro va alla giuria che è composta da persone molto vicine che sono state molto vicine a Maria da Vittorio Ponzani da Paul Gabriel Weston da Franco Neri Agnese Cargini Piero Cavaleri Madel Casta e Franco Neri e da me ogni anno cambiamo la presidenza della giuria e seminiamo i progetti che appunto abbiano le finalità finora descritte quali devono essere le aderenze per aderire a premio le finalità l'alta qualità etica delle iniziative per la valutazione consideriamo 5 indicatori l'adesione al balno intanto l'innovatività come il vostro appunto progetto l'analisi del contesto dove viene dove si opera qual è il contesto l'analisi dei soggetti e degli strumenti la continualità perché è molto importante dare continuità nel tempo ai progetti un ulteriore fattore che è ugualmente significativo ai fini della valutazione è costituito dai meriti speciali riconosciti a motivo delle condizioni nelle quali l'iniziativa va a collocarsi e dei risultati conseguiti motivi per cui nel 2020 Presidente della giuria per questo nonostante le difficoltà e le preoccupazioni del periodo erano in piena pandemia i progetti candidati sono stati ben 23 vincitrice edizione 2020 è stata annunziata a Pastorini per il suo lavoro di bibliotecaria nella biblioteca a porte aperte di Annelisa Durante a Napoli nel quartiere di Forcella l'inventiva la nostra motivazione l'inventiva la determinazione la capacità di relazionarsi con il contesto e la necessità di operare controcorrente ci sono apparsi molto nello stile della vita di Maria Antoglietta Benante questo è stato l'incipit per la presentazione di questo progetto mi chiamo annunziata a Pastorini detta Aninzia sono nata a Napoli nel 1985 e svolgo l'attività di bibliotecaria presso la biblioteca a porte aperte Annelisa Durante solta in memoria della giovane vittima innocente uccise nel 2004 in uno sconto armato tra clan nel quartiere napoletano di forcella la biblioteca diretta da Giuseppe Penna è alimentata esclusivamente da libri in dono che attraverso l'attività di Bookcross ricevono una seconda vita i libri che non sono catalogati nel Sibiene vengono infatti esposti all'ingresso della biblioteca con un adesivo sulla copertina che indica che il libro può essere preso letto scambiato riportato o regalato da altre persone il nostro motto è la cultura salva le anime bene con questo incipit abbiamo poi premiato nell'edizione 2020 questo progetto hanno ricevuto la targa quella che vedete alla mie spalle come appunto il progetto che mi ha preso su cui mi ha preso soffermarmi questa è un altro dono questa targa è di una mia amica un'illustratrice molto famosa brava nell'ambito dell'editoria per ragazzi che è Eva Montanari ne aveva presentate più di una di illustrazioni questa è quella che ci ha colpito di più oltre al premio il vincitore ogni anno diamo anche delle menzioni speciali così è stato anche nel 2020 nell'edizione 2021 sono stata io presidente appunto per la ceplicità della presidenza e abbiamo premiato la scuola in piazza di Reggio Calabria è il progetto vincitore di questa seconda edizione del premio Maria Benande perché abbiamo scelto ad unanimità il progetto Calabrese che offre percorsi di apprendimento della lingua italiana per i giovani adulti straliere e una prospettiva interculturale e intergenerazionale perché si fonda sulla promozione della lettura che è ben diversa dall'animazione della lettura perché crea consapevolezza crea motivazione sedimenta abitudini dall'approccio alla lettura e fa diventare il libro fattore aggregante e inclusivo le attività svolte all'aperto completamente gratuite per tutti mirano anche a riqualificare una piazza degradata nel centro storico della città crocevia di culture anche lontane questa realtà è nata nel 2019 quindi aveva anche le caratteristiche della continuità e ha saputo aggregare sia l'associationismo locale con l'università e con gli istituti religiosi e poi tre ex eco appunto quindi il vostro premio o per il Bibbio Verifico Olympics giochiamo contro la disinformazione della biblioteca di Alfredo Pareto dell'Università Torvergata la parola ai giurati i detenuti scelgono i vincitori di storie da musei archivi del MAB delle Marche storie di libri e palazzi itinerari fra le biblioteche dell'Università di Ferrara perché è perché ha risposto a tutti quelli che erano i requisiti del premio quindi la tutela la valorizzazione delle collezioni storiche del sistema bibliotecario di Ateneo itinerari turistici culturali che sono stati veramente molto apprezzati innovativi permanenti la continuità perché è stato inaugurato nel 2018 che permette di scoprire il patrimonio scotorico architettonico dell'Università di Ferrara la storia la peculiarità che si sviluppi nelle biblioteche con sede in questi edifici le collezioni librarie che vuol dire appunto affabetizzare l'uso competente di un patrimonio e ancora coinvolge il sistema museale di Ateneo e quel bellissimo orto botanico di cui è stato appunto prima avete parlato con l'erbario la farmacia del ancora del XVIII secolo insomma questi percorsi delineati da tote con testi in italiano e inglese collocati appunto in questi sedi questa è inclusione questa è inclusione di diversi pubblici di tutti i pubblici e l'inclusione per agevolare l'utenza con disabilità che avete realizzato con questi video che ci avete appunto di cui ci avete parlato è arricchiti da selezioni di immagini è ancora accompagnata da sottotitoli da voce narrante è la possibilità di fluirvi la possibilità che il pubblico con disabilità visive possa soffrire di un percorso grazie a sensori che possa ascoltare audio informativi e dispositivi mobili tramite app che sono tutte gratuiti e ancora più il coinvolgimento degli studenti di un liceo scientifico quindi il coinvolgimento del territorio che poi sono stati formati ecco questo è quello che noi vogliamo che accada quando si parla di promozione della lettura per direzione dell'uso competente di indagine e inclusione questi ragazzi sono stati formati sugli strumenti di ricerca bibliografica i bibliotecari hanno curato i testi sulle biblioteche e sulle collezioni librarie i docenti dell'Atenei hanno per le loro specifiche competenze hanno anche divisionato i contenuti quindi questo lavorare insieme tutto questo è veramente requisiti del premio Maria Dorante io chiudo ringraziandovi a nome dell'AIB dell'Associazione Italiana Biblioteca vi ringrazio per aver partecipato al premio Maria Abbenante e tutto quello che abbiamo scritto ancora di più io ho tratto una sintesi del verbale di quello che abbiamo appunto scritto dopo aver esaminato tutti i premi lo trovate online nel nostro sito e trovate anche il momento della premiazione online che è avvenuta mercoledì 22 dicembre del 2021 e sul nostro canale YouTube dell'AIB grazie bene grazie a Milena per le tante cose anche importanti dette per le belle parole la pittura salva l'anima mi ha colpito molto me la sono anche scritta adesso diamo la parola a Marcella Rognoni che presenta un po' meglio di prima visto che ho ripreso un po' di di tono nervoso del sistema bibliotecario dell'università di Genova e anche componente della commissione nazionale di AIB delle biblioteche universitarie e di ricerca il titolo del suo intervento terza missione biblioteche accademiche e bibliotecari per la comunità qui va bene qua si se va bene per te si si devo allora passiamo una cosa se devi usare lo facciamo così prendiamo la sedia chiedo grazie come sempre è bello della dire dunque buongiorno a tutti grazie dell'invito io parlerò di terza missione in modo un pochino più generale devo dire che il tema della terza missione è stato già ampiamente discusso ampiamente è stato sviscerato in molte sedi in tutti i suoi aspetti e rimane comunque un argomento sempre aperto nella sessione di ieri pomeriggio ne abbiamo avuto un quadro molto ampio profondo con luci e ombre quindi molto interessante devo dire che al di là della gioia che ho avuto nel tornare proprio in presenza alle stelline la giornata di ieri mi ha dato molti stimoli ma forse ancora di più ne ho assunti questa mattina dal racconto dell'esperienza dell'università di Ferrara io non lavoro sulla terza missione però diciamo che come ha detto ieri forse qualcuno forse Gabriella Benedetti tutti noi facciamo terza missione nel momento in cui lavoriamo in una biblioteca perché diciamo che ancora di più nel nostro caso è forse difficile distinguere tra le azioni che compiamo per la didattica per la ricerca o per quello che definiamo terza missione l'esperimento però l'esperienza che abbiamo appena visto dell'università di Ferrara ci dice chiaramente che fare bene fare bene la terza missione è veramente impegnativo e richiede un grande impegno un grande lavoro una grande professionalità è chiaro che io non aggiungerò assolutamente niente a tutto quello che è stato già detto sul tema della terza missione però appunto la formula di oggi che è la formula di questo workshop diciamo ristretto di riflessione ci dà forse la possibilità appunto di raccontarci di riflettere insieme di confrontare le nostre esperienze e quindi speriamo come dire tra tutti ci siamo detti sia in commissione che anche con i colleghi con cui abbiamo preparato questo workshop che speriamo come dire di uscire oggi con delle risposte anche concrete alle tante domande che la terza missione ci come io in questi giorni mi sono presa sia ieri che oggi sono presa tantissimi appunti e quindi perché ho tantissimi spunti da proporre e questo mio intervento è molto breve e praticamente è una serie cioè si pone l'obiettivo di porre delle domande vediamo ecco partiamo comunque con diciamo un rapidissimo inquadramento di base quello che abbiamo visto tutto quello che diremo l'abbiamo visto veramente in modo eccezionale concretizzato nelle esperienze che abbiamo appena visto che devo dire mi ha veramente emozionato e i pilastri della terza missione nelle biblioteche sono fondamentalmente questi la valorizzazione del patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni il rapporto con il territorio l'open science che abbiamo visto ieri per quanto riguarda la terza missione prende la forma diciamo della citizen science e il public engagement tutto quello che in pratica abbiamo visto comunque trovarsi in questo in questo progetto quali sono queste domande di domande ce ne sono tantissime chiaramente però appunto il tempo in realtà è finito e quindi ho cercato di dire di selezionarne alcune prima di tutto come è stato già detto anche dalla collega Paola ci dovremo interrogare sul ruolo del bibliotecario accademico nel senso che ieri abbiamo parlato abbiamo sentito parlare di nuovi colpini nuovi spazi e anche orti da coltivare abbiamo sentito tante belle tante belle espressioni diciamo però riguardo proprio alla nostra figura professionale dobbiamo interrogarci se stiamo parlando di un ruolo nuovo di una nuova professionalità oppure se parliamo di qualcosa che come bibliotecari già ci appartiene cioè qualcosa che abbiamo già nel nostro bagaglio professionale quali sono per esempio anche le peculiarità di questa figura la seconda domanda che rimane fondamentale è quella delle relazioni con le biblioteche pubbliche naturalmente la base della terza missione è il rapporto con il territorio per un sistema bibliotecario di Ateneo il rapporto con le biblioteche pubbliche rimane comunque il fondamento ecco io qua ci torneremo sicuramente sia in fase di discussione che un attimo dirò ancora due parole dopo sul concetto di relazione penso però che questa domanda possa essere posta in un modo un pochino più critico cioè io mi sono appuntata mi chiedo questo esiste ancora o secondo me va forse riscoperta quella naturale propensione del bibliotecario accademico a fare rete sul suo territorio ecco io su questo vorrei che si riflettesse perché temo che ci sia stato come dire un allentarsi di questa nostra propensione e quindi che sia molto importante riflettere sulla nostra capacità relazionale la terza domanda una domanda d'obbligo come misurare l'impatto delle iniziative di terza missione è stato detto più volte che è molto difficile misurare questo impatto quindi è sicuramente un punto su cui riflettere le ultime due domande sono quelle che forse mi stanno un pochino più a cuore e cioè come consolidare il ruolo delle biblioteche nella terza missione ossia gli Atenei riconoscono che nell'ambito della terza missione le biblioteche possono costituire un luogo estremamente efficace di terza missione pensiamo ad esempio che abbiamo appena visto e quindi questo caso di Ferrara secondo me è veramente prezioso l'ultima domanda che mi sono appuntata è forse quella a cui tengo di più è un po' particolare nel senso che non so non sono sicura che gli Atenei comprendano veramente il rapporto tra open science e terza missione su questo devo dire ho forti dubbi nel senso che perlomeno nel contesto lavorativo in cui mi trovo la risposta sarebbe negativa quindi potendo riflettere potendo come dire confrontare potendoci confrontare con altri Atenei sarebbe molto interessante sentire qual è la percezione che i colleghi hanno in questo senso queste le domande ora io ho portato volevo fare un esempio leggermente diverso da quello portato dalle colleghe però come dire ne costituisce comunque una parte cioè riflettendo ad esempio sulle digital library per i beni culturali che sono attività che ormai le università stanno svolgendo in modo sempre più regolare noi stessi a Genova abbiamo una digital library che è in preparazione ma uscirà diciamo verrà pubblicata praticamente il prossimo mese ecco il lavoro della digital library con questo ventaglio diciamo di competenze che il bibliotecario porta alla realizzazione di una digital library mi fa pensare che sia veramente importante entrare nel discorso di terza missione con il nostro bagaglio professionale ora tolto per esempio l'ultima attività l'attività che ho segnato per ultima la digitalizzazione effettiva cioè il trattamento delle immagini che comunque è un'attività che molti bibliotecari stanno intraprendendo o hanno già intrapreso da alcuni anni per esempio noi a Genova abbiamo un ufficio all'interno proprio del sistema bibliotecario di Ateneo archivi storici e musei e i colleghi oltre a tutta un'altra serie di attività si occupano esattamente anche proprio della produzione delle immagini quindi questa effettivamente è una competenza diciamo nuova per quanto riguarda la nostra figura professionale non obbligatoria chiaramente però nuova tutte le altre competenze fanno parte del nostro bagaglio culturale la digital library è in realtà un repository quindi un catalogo e noi abbiamo dimestichezza con la gestione dei repository con la gestione dei dati e dei cataloghi non parliamo chiaramente della metadatazione non parliamo degli standard nel senso che non solo la conoscenza ma diciamo che proprio sapere che esistono e sapere a cosa servono e perché vanno applicati perché vanno applicati le strategie di ricerca le interfacce ieri la collega Laura Testoni parlava della cura e diceva bisogna creare un ambiente un ambiente accogliente anche dal punto di vista digitale non solo dal punto di vista fisico ecco quindi questo è un tipo di competenza su cui noi sicuramente dobbiamo dobbiamo riflettere il trattamento di materiale di pregio chiaramente è una delle nostre competenze principali le policy diritto di autore il copyright i rapporti con gli organismi VICU gli altri organismi nazionali e internazionali l'interoperabilità dei sistemi cioè per noi è come dire è nel nostro DNA sapere che i sistemi devono parlare fra loro che la digital library non rimarrà uno scrigno isolato ma dialogherà con tante altre realtà digitali tutto questo ci fa pensare che effettivamente la professione del bibliotecario sia veramente fondamentale quando andiamo a parlare di terza missione ecco un'altra domanda concludo diciamo rapidamente sempre dando alcuni spunti per la discussione le esperienze sono tantissime in tantissime le azioni che possiamo compiere sono tantissime vanno dal piccolo fino al grande che abbiamo appena appena visto progetti di digitalizzazione la valorizzazione con mostre le presentazioni la formazione l'attività di servizio civile o tirocinanti l'open access l'open science insomma tutte queste attività che qui io ho come dire espresse come una specie di brainstorming diciamo ecco e termina con i puntini cioè tutto quello che voi vorrete raccontare dopo vorrete dare come spunto che nei prossimi nei vostri prossimi progetti potrebbero arricchire proprio questo percorso e l'ultima l'ultima domanda che è forse quella a cui tengo di più è la domanda quali relazioni cioè qual è la qualità delle nostre relazioni relazioni tra sistemi bibliotecari relazioni tra aree disciplinari a livello nazionale ecco questo è un po' raro però sarebbe ad esempio molto bello molto interessante le relazioni interne al proprio Ateneo abbiamo visto nel progetto di Ferrara cioè nessun progetto va avanti isolato ok la relazione è alla base del successo di quell'esperienza la relazione con l'attualità cioè con gli eventi con le ricorrenze con tutto quello che succede nel mondo e l'ho lasciato per ultimo la relazione con le biblioteche pubbliche ecco noi sicuramente come sistemi bibliotecari degli Atenei dobbiamo riprendere a curare dobbiamo rafforzare ravvivare proprio la relazione con le biblioteche pubbliche del territorio forse ieri per esempio io ho ascoltato anche la presentazione della Beif un progetto bellissimo che devo dire mi ha anche questo progetto molto l'ho trovato esaltante ecco però a un certo punto non so chi di voi era presente è emerso un piccolo grido di dolore ossia è stato detto e qui io lo dico non nel senso chiaramente di Milano ma nel senso generale nazionale i sistemi bibliotecari degli Atenei forse non stanno sempre e tanto dialogando con i loro territori con le altre biblioteche e o se lo stanno facendo magari non lo stanno facendo in modo sistematico e in modo importante quindi questo è secondo me come dire un po' il punto di riflessione principale ecco io come dire non volevo togliere tanto tempo alla discussione anche perché appunto gli argomenti sono già stati detti e sviscerati come dicevo all'inizio però sia come commissione che sempre con questo piccolo gruppo che ha dato vita a questo workshop ci siamo posti una domanda che vorrebbe essere anche come dire una proposta di discussione e cioè è possibile concepire un portale italiano delle biblioteche per la terza missione ecco questo è un portale che sarebbe un portale che manca perché non esiste in Italia al momento una una iniziativa a livello nazionale di questo genere sicuramente se voi andate a cercare nei siti delle università nei siti dei sistemi bibliotecari è difficilissimo trovare queste esperienze cioè non sempre vengono come dire collegate alla terza missione a volte all'interno dei siti dei sistemi bibliotecari rimangono come iniziative collaterali non sto parlando chiaramente di un'iniziativa come dire di grande impatto come quella dell'università di Ferrara ma di quella miriade comunque di iniziative che tutte le biblioteche e dico tutte le biblioteche degli Atenei mettono in campo io ne potrei raccontare anche alcune certamente non così rilevanti però sono esempi che si trovano in tutti gli Atenei ecco manca la visibilità quindi manca il monitoraggio e la raccolta dei dati e l'esistenza forse di un portale potrebbe iniziare ad aiutare in questo senso quindi fare emergere tutto questo lavoro che non facciamo ecco io chiudo come dire con questa domanda anzi con questa proposta vi ringrazio aspetto appunto davvero con grande interesse e curiosità gli interventi e le domande di chi partecipa al workshop grazie non è facile come tutte le cose sentite rimanere a una traccia prescritta prescritta prima però proprio per una questione di economia cercherò di mantenermi alla traccia che mi ero già fissato per punti come già stato detto il progetto di Ferrara ha avuto una lunga gestazione questo è un dato di sicura qualità è un dato anche che fa riflettere come i tempi lunghi siano non necessariamente una posso dire un fattore frenante ma siano anzi un fattore di qualcosa che va verso una riscoperta della qualità del lavoro attraverso un processo anche di sedimentazione quando ormai due anni fa con me che c'è dell'Emilia Romagna abbiamo introdotto il questionario rivolto a tutte le biblioteche del territorio su quali iniziative fossero state fatte nell'ambito dell'agenda 20-30 consapevolmente fatte non so parlare degli esi del questionario delle cose che sono più successe dopo come Giovanni potrebbe dire delle cose lui rispetto anche alla ricaduta nazionale abbiamo accolto il lavoro delle colleghe di Ferrar pure sempre sottofatti nel tempo precedente quindi non sto dicendo nulla di di dioretico non con la consapevolezza che rientrasse in quel tipo di discorso ma rientrava di fatto e questo c'è stato un po' di dibattito ma credo che si fosse tutti gli elementi come poi il futuro ha detto cito solo poche cose l'esportabilità cioè questo è un progetto che si può esportare nel senso che può essere non ovviamente clonato in toto ma degli elementi che possono essere di modello di prototipo per realtà analoga loro parlavo di una città piccola densa di storie ma di dimensioni umane ancora vicine tra il centro e le periferie di prossimità e questo è un dato assolutamente significativo la relazione Marcella ha citato la relazione Gregorio Bezzo diceva la relazione viene prima ne parlavo in un contesto completamente differente ma indipendentemente da quello che noi facciamo la relazione esiste rendersene conto ed agire su questa è un fatto attivo se non ce ne rendiamo conto può essere che la relazione ci sfuga dalle mani ma intanto agisce e questo intervento tuo è stato secondo me di grandissimo spessore rispetto a questo tema ma non ho tempo di svilupparlo quindi la relazione che hanno messo insieme le colleghe di Ferrara io dico le colleghe di Ferrara perdonatemi se sono schematico con tanti pubblici con tanti elementi con tanti partner è un dato di assoluto valore poi giorni fa guardando le vecchie carte che sto mettendo in ordine ho trovato una vecchia relazione di Maria Stella Rasetti fatta a Chiara Stellini secondo me nel 2001 può essere non lo so non mi ricordo però parlava del comunicare col principe il principe nel senso macchiavellico insomma voi avete comunicato col principe avete avuto un rapporto se non alla pari comunque non subalterno con il decisore con il decisore politico e questo è un altro dei grandi temi che sono emersi in più l'individuazione di alcuni target specifici dell'agenda 2030 su questo opererà poi per una riflessione secondo me un po' più a 360 gradi su come l'agenda 2030 nel 2022 debba essere necessariamente aggiornata alla luce di quello che è che sta accadendo nel mondo soprattutto negli anni non tanto perché voglia fare un discorso catastrofico ma perché necessariamente dipendere tutto questo va ripreso e i target che avete voi individuate il numero 4 l'8 non vi sto definire il 10 l'11 secondo me ce ne sono anche altri ce ne sono anche altri che si possono tranquillamente prendere anche il 12 consumo e produzione sostenibile e perché no pace giustizia e istituzioni forti il 16 e la partner e la partner c'è degli obiettivi poi sul discorso dell'impatto e della misurazione ecco questa è il tema forse più il punto sul quale la riflessione ma per tutti è quella ancora più complessa più difficile perché sono oggettivamente difficoltose da valutare le conseguenze di un atto che non sia semplicemente misurato con un numero con una quantità ma che generi comportamenti che modifichi strategie parabini e via dicendo si diceva con quella brutta frase andrà tutto bene all'inizio pandemia che il mondo sarebbe cambiato sì sì il mondo è cambiato il mondo cambia sempre ma i profetti della trasformazione positiva sono stati smentiti dopo 15 giorni quindi tutto ciò richiede una riflessione non soltanto introspettiva ma portata verso l'esterno perché questo non rimanga un racconto tra di noi semplicemente al nostro interno e sul racconto io vado a concludere la forza di questa storia della storia per il recupero di qualcosa che esiste da molto tempo ma che è stato molto spesso ignorato ci ha fatto pensare dico qualcosa che forse non dovrei dire ma lo dico non so se posso dire ma lo dico lo stesso quindi censurerete parlo dei miei capi non sto guardando Anna del CERS dell'Emilia Romagna noi avremmo intenzione di proporre questo lavoro ci sto lavorando da un po' e chiedo scusa se sono in ritardo ma periodi complessi personali professionali non è una scusa è una spiegazione avremmo intenzione di portarlo sulla library maps of the world di ITMA di far si che diventi una delle storie che possono andare ad arricchire arricchire quel datalogist quella cosa lì aggiornandolo non tanto il progetto aggiornandolo al tempo che sta scorrendo concludo dicendo una cosa sugli strumenti oggetti sono venuti fuori degli stimoli delle suggestioni ma voi avete parlato di libri di palazzi è ritornata la parola bellezza molto spesso gli oggetti non sono neutri se compro un'automobile vado per strada se prendo un martello vado un chiodo se ho una pentola faccio il preparo del cibo se ho una pistola un cannone una bomba li uso per uccidere se ho una casa cerco riparo cerco una dimora un rifugio se ho una penna un foglio un pennello scrivo dipingo se ho un libro lo leggo lo leggo per me lo leggo per voi se ho una chitarra suono e se ho un corpo a disposizione cosa ne faccio lo uso per mettermi una relazione positiva in apertura o faccio in modo che sia oggetto di scontro ecco su questo a partire da questo progetto secondo me abbiamo tutti gli elementi per raccontare qualcosa che va in una direzione come diceva Chilena poco fa dell'inclusione dell'apertura della consapevolezza attraverso uno strumento antico ma semplice che è quello del leggere complesso ma antico e anche del raccontare del parlare del trasmettere attraverso la memoria e la storia che sono due cose complementari ma non necessariamente identiche consapevolezza fate vedere con un ragionamento di ricerca la memoria è qualcosa anche di un po' più volato di più di più io vorrei fermarmi qui per non rubare tempo alla discussione spero di avervi detto qualcosa almeno di interessante non è stato un intervento più di tanto organico ma ho cercato di tenere insieme quello che mi ero prefissato all'inizio con le cose che ho sentito nel dibattito adesso do la parola a chi volesse intervenire sia da qui che da casa allora mi presento io mi chiamo Stela Fereda e lavoro alla biblioteca di lettere dell'università di barcellona e facendo una riflessione anche su come dobbiamo cambiare questo con lo nostro bibliotecario e come fare una rete anche di partecipazione tra noi io ho avuto la possibilità di collaborare con l'università di Ferrara tramite un programma Erasmus Plus quindi da una parte abbiamo una situazione come questo convenio delle stelline che ci permette di condividere delle esperienze e vedere altre prospettive realtà ma anche il programma Erasmus o altri programmi di intercambio internazionale ci permettono di conoscere un'altra realtà che a volte ti dà tanti spunti che non hanno niente a che vedere con i soldi o con il sistema politico dell'instituzione ma più con la propria comunità di lavoro della tua istituzione e dopo come proiettarla da fuori e quindi io questa esperienza che ho fatto con l'università di Ferrara è stata molto interessante e anche ho avuto un prolungamento nel tempo a livello umano e anche a livello professionale di fatto io sono stata nell'ultimo periodo di realizzazione di questo proietto e abbiamo avuto questo contatto anche per il fatto che io lavoro dentro di un gruppo di marketing del sistema bibliotecario dell'università di Barcellona e quindi anche un proietto di questo tipo di proiezione di valutazione del servizio e anche dell'istituzione perché il caso vi fareò molto concreto per quello che riguarda i palazzi e il ricupero che l'università il lavoro che ha fatto l'università di recuperare questi spazi e metterli in aperto con la società col territorio un collegamento col territorio e dopo anche fare questa diffusione del servizio promozione del servizio bibliotecario dentro il contesto urbanistico della città che penso che è molto interessante e anche fare questo collegamento con le scuole vuol dire con il liceo che anche apre la porta aprire un futuro a questi ragazzi che in quel momento non sanno se andranno a studiare all'università e vedere che l'università ci offre strumenti ci offre possibilità tenta di offrire una formazione che si collega anche col territorio e con l'attività del territorio e vedere che ha una utilità e dopo avere questa esperienza che è unica in quel momento perché escono della sua zona di comfort e devono imparare tutta una serie di relazioni di attività il fatto di cercare informazione come essere sistematico effettivo allora i rapporti con le persone che a quell'età veramente sei un po' perso e quindi io sono stata da una parte nelle RASUS ma sono stata anche nel mese di ottobre quando si è pronta questa attività e ho fatto come di giornalista e dopo ho proposto alle colleghe di fare una valutazione siccome noi facciamo all'Università di Barcellona dentro il nostro sistema bibliotecario nel gruppo di marketing una valutazione dell'attività noi facciamo con le campagne in questo caso dell'attività per vedere il comportamento delle persone che sono venute che tipo di pubblico è venuto che è mancato che è stato straordinario per avere un feedback di riassunto dell'attività e veramente è stato molto interessante però dopo noi abbiamo continuato questo rapporto infatti l'anno scorso abbiamo fatto che già era la seconda esperienza a livello fuori dell'università noi facciamo sempre una campagna per San Giorgio perché da noi si festeggia il giorno del libro della rossa a Barcellona e quindi come verrà da San Giorgio il patrono abbiamo pensato va perfetto abbiamo fatto questa campagna di festeggiatura del San Giorgio tramite un segnalibro quello che abbiamo fatto all'università ci ha dato un'immagine di un libro delle sue collezioni antiche di un'edizione del Dante perché noi anche abbiamo dedicato delle mosse al Dante quest'anno scorso nella biblioteca di lettere e abbiamo pensato il San Giorgio lo dedicano anche a questa figura del Datteli ieri quindi noi abbiamo fatto il disegno e loro ci hanno ceduto l'immagine del testo e c'è stata anche questa collaborazione che voglio dire con questo può sembrare un segnalibro che ci dice ci dice tanto perché infatti vuol dire che un progetto ti porta un altro progetto e noi anche a livello personale e lavorativo condividiamo tante cose facciamo una formazione condividiamo i materiali guarda sto facendo questa campagna che ti sembra come lo fai avete fatto qualcosa del tipo ci condividiamo tante cose e questo penso che ti dà tanta ricchezza tanto nella parte umana come nella parte professionale e che si deve tenere in conto come un'altra opportunità che abbiamo di aprirci un po' fuori della nostra istituzione e condividere le esperienze dopo ieri riflettendo anche con Marina un'altra collegata dell'università di Ferrara parlavamo un po' su questa idea della terza missione se l'università si deve collegare con le biblioteche pubbliche come deve andare questo circuito delle biblioteche io la penso così non ho la risposta assoluta della verità assoluta ma io penso che è molto importante che la biblioteca scolare abbia un contatto direttissimo e attivissimo con la biblioteca pubblica perché perché è il primo passo il primo stadio nel quale si fa di forma naturale questo passaggio per la biblioteca come uno spazio di conoscimento di sociabilizzazione di cultura che già l'individuo prende dall'inizio della sua scolarizzazione e che ti porta a fare tantissime attività e che dopo sì deve essere un collegamento tra la pubblica e l'academica ma a un livello diverso come visione di futuro ad esempio noi all'università almeno nella mia biblioteca che di lettere vengono tanti licei a fare la visita e l'idea è dire si fanno le viste in biblioteca ma anche hanno delle conferenze di giorno di porte aperte per presentare gli studi universitari a volte in queste sessioni anche si incorporano delle sessioni sull'etica dell'informazione e qua anche tutto il tema dell'alfabetizzazione informazionale tra la scuola e la biblioteca civica e tra l'università e la biblioteca civica anche penso che è in rapporto perché l'importante è che vengano gli arrivino all'università con un cammino fatto a livello di alfabetizzazione informazionale e di etica dell'informazione che gli serve per incominciare i suoi studi all'università di una forma assolutamente molto più professionale più tranquilla di rispetto anche verso la sua produzione e noi all'università facciamo queste visite vengono tantissimi licei e si tenta includere qualche conferenza che parli su questa sul fatto se fai una biografia la velocità il fatto di trovare informazione di forma facile in internet non vuol dire che non ci sia un autore dietro che capiscano che c'è il copyright e le le licenze creative commons che vogliono dire come possono trovare informazione che è libera ma si deve seguire tutto un processo di citazione che ti libera del plagio per dire una cosa non è tanto una punizione ma una consapevolezza del rispetto che dobbiamo avere verso l'informazione e questa era la cosa che stavamo parlando anche dopo queste queste conferenze che per me è stata la prima volta al commedio delle stelline però è stato molto interessante soprattutto anche per accompagnare le colleghe che abbiamo lavorato insieme questa sarebbe più o meno la mia riflessione buongiorno sono Luisa Buson Università di Padova e volevo prima di tutto fare i complimenti all'Università di Ferrara per questo magnifico progetto che conoscevo perché conoscendo Marina Contarini mi aveva raccontato comunque complimenti davvero e volevo poi un attimo portare la nostra esperienza e accogliere quell'idea di fare rete che trovo assolutamente interessante qui a Padova abbiamo potuto riflettere sulle nostre esperienze di terza missione in particolar modo dopo che è stata inaugurata la ultima biblioteca purtroppo è stata inaugurata alla fine del 2019 quindi poco prima della pandemia una biblioteca di aria umanistica la quale comunque immediatamente si è come prima missione ha cominciato a collaborare con il territorio e a presentare visite guidate di questo restauro di un palazzo antico a creare dei momenti di aperti ai cittadini con reading riguardo a scrittori per i quali c'erano i centenari insomma tutta una serie di attività e alla fine ci siamo resi conto che stava diventando veramente una serie di attività grossissime che impegnavano tantissime energie e per le quali c'era necessità di tutte quelle competenze che bene prima avete descritto e che andrebbe ripresa tutta questa cosa per quanto riguarda la formazione dei bibliotecari oppure usando e utilizzando colleghi di altre aree con altre competenze in una ottica di ottimizzazione e di trasversalità di competenze specialmente all'interno delle università ce ne sono chiaramente e questo ci ha dato anche modo però di riflettere quanto in realtà da tanti anni facciamo attività di terza missione solo che una volta non sapevamo che si chiamasse terza missione e specialmente non era l'obiettivo degli Atenei questa cosa del public engagement è arrivata non da tanti anni e quindi stiamo recuperando anche il ruolo ufficializzando un ruolo che le biblioteche già avevano quindi secondo me c'è da partire non da zero c'è da recuperare tante cose fatte esperienze fatte e sono assolutamente d'accordo che dobbiamo mettere a fattor comune esperienze competenze idee progetti che possono diventare anche trasversali anche interuniversitari e assolutamente ritengo che sia uno dei settori in cui le biblioteche accademiche devono investire c'è c'è molto futuro c'è c'è molto da lavorare e molto da avere indietro in questo settore quindi non so bene come ma dobbiamo trovare il modo di fare rete non so se a valle di questo incontro ci potranno essere altri incontri magari più limitati oppure se l'AIB può farsi carico di questa cosa all'interno magari del gruppo delle biblioteche accademiche comunque noi come Università di Padova diamo senz'altro siamo pronti a dare un contributo in questo grazie a tutti grazie grazie a lei vedo che c'è un'altra persona che ha chiesto di intervenire da remoto Monica Fiore buongiorno la vediamo lei ci sente buongiorno mi sentite si la sentiamo piacere mi presento sono Monica Fiore sono responsabile del fondo antico dell'Università degli Studi di Perugia coordino un gruppo di lavoro interno al Centro Servizi Bibliotecari dell'Ateneo che si occupa di libri rari e collezioni speciali e volevo brevemente fare complimenti mi aggrego a quello che ha detto Luisa Buzon alle colleghe di Ferrara concordo in pieno con quanto ha efficacemente illustrato Marcella Rognoni sul nuovo compito nuovi compiti diciamo che sono precedenti compiti ma si stanno sempre più istituzionalizzando specialistici dei bibliotecari universitari volevo raccontare velocemente l'esperienza qui dell'Università di Perugia negli ultimi anni ci stiamo man mano formalizzando come gruppo di lavoro nel contribuire nell'Ateneo a manifestazioni che toccano la terza missione che sono iniziate con un coinvolgimento con le realtà cittadine grazie a una manifestazione che si chiama luoghi invisibili che si svolge a Perugia a cavallo tra settembre e ottobre vengono aperti luoghi storici o comunque normalmente inaccessibili alla cittadinanza dal 2016 viene aperto per una due visite in queste settimane anche la sede storica dell'Ateneo che è Palazzo Morena che è interamente occupato da uffici dell'amministrazione che ha un piano nobile dove si trova una biblioteca di cui io sono responsabile storica e quindi in questi ultimi anni a partire dal 2016 abbiamo condotto noi queste visite guidate che chiaramente interessano anche i fondi libri cioè in particolare la collezione storica che si trova appunto nella sala del dottorato ecco noi non abbiamo ancora avviato un'esperienza come quella di Ferrara ma recentemente ci è stato chiesto di preparare dei contenuti per una virtual tour che è stato realizzato e che coinvolge anche appunto Palazzo Morena quindi in minima parte stiamo collaborando anche noi diciamo che qui non è ancora ben chiaro per rispondere a una delle domande di Marcella Rognoni non è ancora ben chiaro e ben percepito il ruolo che possono svolgere le biblioteche in particolare quelle storiche in virtù anche della valutazione della qualità della ricerca che interessa anche la terza missione a partire dal 2018 delle collezioni appunto storiche delle biblioteche e ancora un po' meno chiaro è ma perché siamo noi bibliotecari che ci attiviamo poco nei confronti come dicevano molti che mi hanno preceduto nei confronti della cittadinanza del ruolo che possiamo svolgere per la citizen science e per la terza missione quindi provo a dare una risposta cioè molto sta sulle nostre spalle sulla reputazione che riusciamo come dire a conquistarci che ci dobbiamo conquistare all'interno delle nostre istituzioni e secondo me è importantissimo fare rete anche tra biblioteche accademiche perché attraverso il confronto delle buone pratiche riusciamo a sensibilizzare meglio il principe come è stato chiamato che si rende pienamente conto lo dimostra nei fatti che siamo un perno diciamo dell'università della comunicazione del ruolo che ha l'università nei confronti della cittadinanza quindi anch'io mi rendo perfettamente disponibile a continuare questo discorso volevo solo fare un'osservazione che forse è legata alla mia scarsa conoscenza nella Cruy c'è una commissione biblioteche si potrebbe anche come dire collaborare lì tra rete tra le biblioteche accademiche ma anche tramite la commissione grazie bene grazie grazie a lei c'è un'altra persona in attesa Serena Spinelli può intervenire ci sente può aprire la telecamera e il microfono eccomi ci sono mi sentite sì eccoci ok allora innanzitutto mi presento lavoro all'università di Bologna ma sono anche coordinatrice della commissione delle biblioteche dell'università della ricerca e in questo ruolo ovviamente voglio ringraziare tutti quelli che hanno organizzato e partecipato a questo evento prima fra tutti Marcella Rognoni che ci ha rappresentato con la sua bella relazione e avevo pensato di dire qualcosa su quello che facciamo come università di Bologna ma perché penso che facciamo anche delle cose interessanti un po' diverse forse da altri atenei rispetto alla terza missione soprattutto nel campo della collaborazione con le biblioteche del territorio però in questo momento mi sembra che siamo stati chiamati a riflettere anche su altri piani tra virgolette più politici più strategici qui come commissione quindi mi soffermo un attimo su alcuni di questi temi innanzitutto ho trovato assolutamente cruciali le domande che si è fatta Marcella rispetto non solo al nuovo ruolo per i bibliotecari accademici alle relazioni con le biblioteche pubbliche ma soprattutto agli strumenti per valutare l'impatto delle iniziative di terza missione delle biblioteche a come consolidare il ruolo delle biblioteche universitarie nella terza missione cioè per se gli atenei un ruolo e se gli atenei comprendono il legame stretto tra open science e terza missione purtroppo secondo me è difficile dare una risposta positiva a queste soprattutto a queste ultime domande ed è probabilmente quello su cui dobbiamo lavorare di più su cui dobbiamo fare rete su cui anche la nostra commissione deve rispondere a queste sollecitazioni e diciamo continuare queste attività per dare vita o stimolare comunque questo possibile portale sulla terza missione e questa possibile ospicabile rete delle biblioteche universitarie quali sono secondo me i punti cruciali della questione che gli atenei fino ad oggi sono stati interessati essenzialmente le attività di terza missione che sono sotto la lente degli organismi di valutazione prima o fra tutti l'ambor quindi si tratta di attività che sono il risultato della ricerca soprattutto della ricerca applicata sostanzialmente e che possono avere un impatto economico quindi brevetti spin off conto terzi eccetera quindi attività misurano agli atenei dei riscontri in termini di valutazione e che e che quindi in qualche modo servono agli atenei e che gli atenei hanno molto molto incentivato e sviluppato in questi ultimi anni il secondo possibile la seconda possibile interpretazione della terza missione che è quella in cui rientrano più facilmente più propriamente le biblioteche cioè diciamo essere promotori fare azioni che sono una fonte di diffusione della conoscenza che hanno un impatto sullo sviluppo sociale e culturale sul miglioramento del territorio in termini in questi termini questo tipo di ruolo è molto più difficile sia da riconoscere sia da misurare sia da valutare ma non è meno importante sicuramente ed è quello che possono avere un ruolo fondamentale finora si è privilegiato quindi questo primo ramo della della terza missione che ha visto le biblioteche in secondo piano e su cui gli atenei spingono molto ma noi come biblioteche dobbiamo ovviamente cercare di valorizzare quello in cui siamo più protagonisti io penso che le biblioteche sono un po' come la ricerca di base e se oggi tutti puntano sulla ricerca applicata domani non ci saranno come dire come se tagliassero le radici delle piante domani le piante non cresceranno se oggi tutti puntano diciamo su tutto quello che può avere impatto misurabile facilmente risultati a breve termine e non puntano sulle strutture che danno non solo alla alla comunità accademica ma alla comunità del territorio alla cittadinanza in generale gli strumenti per aumentare l'impatto la conoscenza per ottenere miglioramento sociale e così via è come se tagliassero le loro radici allora come si può arrivare in qualche modo ad ottenere un risultato in questo sicuramente bisogna lavorare appunto sull'impatto sulla riconoscibilità sul dare evidenza all'attività delle biblioteche universitarie per il territorio e darla anche in collaborazione con le biblioteche del territorio e sicuramente la proposta di Marcella su un portale per la terza missione potrebbe essere un buon passo avanti in questo percorso per finire sicuramente la nostra commissione può dare un contributo dare una mano per costruire questo percorso bene grazie serena hai finito sì sì ho finito grazie benissimo grazie a te non vedo altre domande c'è non vedo altre domande da remoto ma correggimi se sbaglio non vedo nulla se qualcuno ha osservazioni interventi cosa da fare visto che siamo ormai alle 13.02 non so quanto tempo abbiamo ancora a disposizione per continuare credo che stiamo siamo agli sgoccioli voglio solo dire una cosa sì credo anch'io che quando diciamo fare rete abbiamo detto tanti esempi di come fare rete eccetera e se vogliamo aiutarci fra di noi a fare rete e soprattutto a trovare questa diciamo così questi strumenti anche questa capacità di farci vedere all'interno dei nostri rispettivi atenei con anche strumenti di valutazione dell'impatto che sono appunto la cosa più difficile tutti l'abbiamo lo sappiamo bene valutare l'impatto di queste cose è la cosa l'aspetto più difficile quindi secondo me unire le forze intanto le nostre è veramente molto importante quindi ringrazio molto Marcella serena la CNUR per questa diciamo per questo per questa idea e per questo aiuto insomma aiuto che ci possono dare in futuro perché forse quello lì insieme alla commissione biblioteche della CRUI certamente credo che abbia che abbia un ruolo importante io sono veramente dell'idea che sia il primo passo da fare per aiutarci fra di noi a raggiungere questo obiettivo su cui tutti abbiamo manifestato delle difficoltà perché è vero ovunque non siamo percepiti come diciamo così strategici per la terza missione non è ancora arrivato forse ci vorrà un po' di tempo però io credo che sia un obiettivo che ci dobbiamo porre perché la direzione anche della valutazione io credo stia iniziando ad andare anche in quella direzione lì quindi io ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato qui e da fuori tutti quelli che sono intervenuti tutti quelli che hanno organizzato questo 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 ordo in particolare vorrei ringraziare Anna Bernabè che si è veramente sobbarcata a un sacco di così di piccoli problemi organizzativi più o meno più o meno grandi perché davvero il suo aiuto è stato fondamentale ecco volevo solo dire questo grazie bene allora a questo punto grazie Paola se non ci sono altri chiudiamo l'incontro trarre delle conclusioni non è possibile sarebbe interessante ma non è possibile anche perché ci sono molti elementi che sono emersi ma due cose voglio dirle da un lato è stato rimarcato da tutti e dall'intervento in particolare di Marcello come sia necessario mettere in rete le diverse anime bibliotecarie le diverse esperienze diversi tipi di biblioteca cosa che ancora oggi è uno dei problemi veri una certa solitudine del bibliotecario anche io sono bibliotecario pubblico è avvertita si avverte e per spingere maggiormente rispetto a quelli che sono anche gli strumenti per valutare della valutazione di impatto di quello che per le biblioteche accademiche sono iniziative di terza missione per quello che sono le biblioteche pubbliche sono attività comunque collegate alla promozione delle letture attività non strettamente legate alla conservazione dei propri fondi o comunque a quello che sono le mission principali canoniche di servizio e la forza del pubblico come andare a trovare il consenso e misurare in maniera non semplicemente numerica ma attraverso quelle che si dicono con una parola indagini qualitativi rapporti stretti è complesso e difficile questo una cosa che mi ha colpito molto che ha detto la collega di Barcellona Estes per diver ridicolare il nome è di partire anche dalle biblioteche scolastiche qui tocca un tema che per noi italiani è una dolente nota come biblioteche pubbliche in questa regione perché io sono siamo a Milano ma almeno in Emilia Romagna tentiamo di fare molto rispetto al tema delle biblioteche scolastiche come rapporto a volte anche di cariante supplettivo rispetto a ciò che non esiste ma ciò non toglie che bisogna lavorare per far sì che ci sia sempre di più un radicamento di queste figure e che le scuole stesse si rendano conto che una formazione di uno studente consapevole di un allungo consapevole parte anche da questo un'altra cosa che mi ha colpito e poi chiudo è la ricerca a partire dalle fonti cosa che molto spesso anche in età non più giovanissimi ragazzi ignorano su questo credo che ci sia molto 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 da fare è stato un incontro molto bello credo che si siano aperte delle successive delle possibilità di lavoro proprio importanti su diversi temi per quello che riguarda noi come AIB e Emilia Romagna cercheremo di accogliere di raccogliere la palla e anche al nazionale visto che c'erano presenti Rosa e Giovanni e ci riaggiorneremo io vi ringrazio vi saluto e grazie ancora a tutti che ancora hanno permesso tutto questo e un ringraziamento in particolare che da parte da parte mia Anna che ci sono barcata a tante pesantezze e tanti oneri e anche le mie gaffe iniziali di cui chiedo modestamente bene e dopo mi flagellerò in privato grazie a tutti ciao grazie a tutti